Il progetto per l'ampliamento del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara partecipa al bando ministeriale per ottenere 10 milioni di euro di finanziamento necessari per gli interventi che consentiranno di creare un distretto musicale all'avanguardia con sale in cui sarà possibile ascoltare qualsiasi tipo di musica. L'iter è stato avviato dall'amministrazione comunale ed è stato fortemente voluto dal primo cittadino Marco Alessandrini e dall'ex vice sindaco e neoconsigliere regionale Antonio Blasioli. Un edificio storico concesso dall'Agenzia del Demanio attraverso il federalismo demaniale tornerà nel suo pieno splendore dopo l'accordo per la riqualificazione della scuola Media Muzzi di Via Saffi, firmato con il Conservatorio e l'approvazione della relativa delibera in consiglio comunale e con il progetto elaborato dal Dipartimento di Architettura dell'Università D'Annunzio. Ma ascoltiamo il sindaco Alessandrini insieme al direttore del Conservatorio Alfonso Patriarca e alla docente del Dipartimento di Architettura Maria Cristina Forlani. Oggi presentiamo questo progetto che per noi, noi non sono comune, noi sistema pubblico che farete rappresenta un traguardo importante ma vuole essere uno stimolo naturalmente poi per arrivare alla giudicazione del bando ministeriale e garantire quindi uno sviluppo che sia idoneo a questo luogo così bello, così straordinario, così anche ricco di suggestioni. Noi guadagneremo in spazi perché in questi ultimi anni siamo cresciuti tantissimo, siamo arrivati ormai ad 800 studenti e con l'ampliamento della nostra offerta formativa, quindi con i nuovi percorsi di pop, di popular music, di jazz, abbiamo necessità di spazi. Noi abbiamo messo a punto delle linee guida che sono basate su un discorso di sostenibilità a 360 gradi, nel senso che abbiamo affrontato la sostenibilità sociale, economica e ambientale, quindi tutti e tre i piedi della sostenibilità. Abbiamo cercato di sviluppare un'apertura verso la cittadinanza per una cultura integrata. Abbiamo cercato di utilizzare naturalmente al massimo materiali che siano ecosostenibili e anche un discorso di economicità.